Nel Medioevo si diceva che il 14 di febbraio gli uccelli iniziavano i loro riti amorosi. Guardando il calendario, il 14 febbraio era la festa di questo Vescovo di Terni, San Valentino, e quindi subito misero vicino le due date. Per cui l'accoppiamento degli uccellini ha fatto sì che San Valentino diventasse anche il protettore di chi si vuole bene. Ma ci sono altre storie per chi studia l'iconografia religiosa e la vita dei Santi che raccontano, ad esempio, che San Valentino un giorno si trovò a percorrere una strada e vide due fidanzati che litigavano. Allora San Valentino ai due fidanzati diede una rosa che trovò là vicino e gli disse di tenere lo stesso gambo. Da questo piccolo gesto di affetto, di amicizia, di simpatia, i due fidanzati non litigavano più e qualche giorno dopo tornavano da San Valentino per essere sposati. Ecco, da questi piccoli episodi poi nasce questa fama del Santo che guarda con amore e con tenerezza chi si vuole bene per tutta la vita, naturalmente.